eccoci qua in giro per le colline fiorentine con questo gruppo di amici io imbucato con l'unica Renault in mezzo a un gruppo di Seat peccato per il tempo che è veramente infame ci si prova a divertire comunque quattro sgommate due frene a mano e vedremo alla prossima comunque si va avanti a girare ciao ciao